diventava subito materia per la loro manifattura. Tu hai letto Madame Boverin? Vai a leggerlo. Ciao. Ciao. C'è un amico di papà. Un amico di papà? Credo sia un collega. Credo. Andiamo a vedere chi è. Andiamo. Guarda che ti ho portato. Ciao. Come stai? Bene, e tu? Bene. Io Dede l'ho conosciuta, ma tu quindi sei Elsa. Madonna, tu sei bella. Sono bellissima. Scusami l'intrusione. Ci siamo visti in facoltà, allora l'ho invitato a pranzo. Ho preso anche i dolci. Non c'è problema. Dove si mangia in quattro si mangia anche in cinque. Dai Nino, vieni. Sì, è splendida la casa, Lelu. Grazie. Siediti qua. E come mai stai in facoltà a Firenze? Noi, in realtà ho incontrato il padre di Pietro al congresso socialista a Roma e parlando del mio lavoro a Firenze mi ha detto che Pietro aveva bisogno di un volume per il libro che sta scrivendo e così mi sono offerto di portarglielo. Mh.